Musica Dovevate state fino adesso voi due? Sono due mesi che vi cerchiamo per i night di riscata e sabbia d'oro Siete due imboscati, voglio di lavorare e saltami addosso Vi giuro, io ho un alibi di ferro, sono stato un mese e mezzo a un seminario su come fare sport pulito e vincere onestamente, curato da Luciano Moggi Ma che seminario è il seminario d'Egitto? Ma che ci crede? A chi vuoi pigliare in giro? Ma che ci crede? Ma non ci crede neanche lei E lei invece dove sei nascosta? Giuro, giuro, ero a un corso sull'anoressia tenuto da Giuliano Ferrara Ma chi crede di prendere in giro lei? Dai lasciamone andare questi due faduloni, sono già in ritardo Lasciamone andare, lasciamone andare, dai, lasciamo perdere Vedete che non perderli ancora, ci vediamo in spiaggia Certo che, che alibi di ferro il tuo, eh? Sport pulito Luciano Moggi, penso che coraggio, eh No, invece il tuo, eh Giuliano Ferrara sta all'anoressia come Brunetta sta al basket, quindi fa un po' te Senti, per la prossima volta, però, studiamocene una un po' più convincente Ce l'ho, ce l'ho Corso sull'Empatia-Simpatia con relatore Vittorio Sgarbi Dai che ti tolgo le gocce, dai 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 Dai che ti tolgo le gocce, dai